Nel giornale quotidiano Avvenire di alcuni mesi fa, anzi qualche anno in più, leggiamo un articolo che può lasciare perplessi. A processo di Norimberga compare un testimone che era vissuto in una tompa di un cimitero ebraico in Polonia e questo l'aveva fatto per scampare alla camera a gas. Vivendo in questa tompa, un pomeriggio sente dalla tompa a fianco un lamento di un pampino piccolo. Una donna aveva dato alla luce un pampino. Come assistente vi era il becchino, un vecchio avvolto in un sudario e al primo vagito del neonato il vecchio pregò Grandio, ci hai finalmente mandato il Messia. L'episodio ci porta alla memoria della tragedia dell'ultima guerra mondiale di quanti soldati, fratelli più che soldati, che ci ricordano il caso di Caino ed Abele. Nel Vangelo leggiamo la pagina del filo prodigo, il giovane che lascia il padre piangento per andare a divertirsi e si avvia verso la morte fino a perdere la dignità di uomo. Vive con i maiali. Siamo chiamati ad alzarci, ad uscire dalla tompa del peccato e tornare indietro. Il peccato blocca il cammino di conversione e di perdono reso possibile dalla misericordia di Dio. L'elenco dei peccati che ancora giunge, non ancora giunge meglio, alla parola fine. A quelle di sempre si aggiungono quelli moderni, violenze, torture, droga, mercato dei minori e evasione fiscale. Gesù suggerisce la strategia per non cadere vittima della nostra concupiscenza. Vegliate e pregate per vivere le tentazioni che possono essere anche mezzi di purificazione. Quindi la tentazione non è che può portare al male, ma può essere uno strumento perché noi possiamo redimerci. Padre Pio suggerisce la partecipazione alla messa, la comunione equaristica, il santo rosario. Egli scrive ad una sua figlia spirituale, non temere la guerra che viene mossa da Satana. Egli non può niente contro l'anima che pone tutta la fiducia solo in Dio. Ecco la raccomandazione di San Pio, perché la tentazione dei demoni l'avremo sempre, ma questo non significa che avendo sempre la tentazione diabolica, certamente noi sbaglieremo e ci allontaneremo da Dio. Anzi, più siamo tentati, noi più dobbiamo rinforzarci, diciamo agguerrirci per sconfiggere il demonio e salvare le anime. Grazie per la visione!